Ecco, buonasera, buonasera a tutti. Io tengo abbracciato un libro che è il libro che presentiamo questa sera, un libro bellissimo, peraltro c'è qui anche presente questa sera l'editore che è Roberto Mugavero, un libro che racconta 150 anni della storia della SEF, della Società Educazione Fisica, poi qualcun altro che ne sa più di me evidentemente ci parlerà di questo nome, di questa storia, di 150 anni di passione, di sport evidentemente, ma anche di storie, perché lo sport si intreccia inevitabilmente con la vita civile, la vita sociale, per cui non è mai semplicemente una serata di sport, una serata per gli addetti allo sport o per gli appassionati allo sport, ma diventa inevitabilmente anche un modo per parlare della città, perché Virtus è nata qui a Bologna ed è un nome, un altro nome di Bologna, il nome della Virtus è legato alla città di Bologna e quando Bologna si dice in giro per alcuni versi si associa anche al nome di Bologna, del nome della Virtus, perché dalla Virtus poi sono nate tante altre società sportive, noi presentiamo il libro dei 150 anni della Virtus, ma 30 anni dopo sarebbe nata la Fortitudo, 1901, quindi sono 120 anni della nascita di questa società sportiva, Virtus e Fortitudo hanno fatto poi il grande regalo a Bologna di essere di fatto la capitale del basket, Basket City, però SEF non vuol dire soltanto basket, ma ce lo dirà evidentemente chi salerà sul palco dopo di me, ma vuol dire tante altre discipline sportive, qui c'è qualche cosa di cosa vuol dire 150 anni di sport, ma 150 anni anche di atleti, di ragazzi, di giovani, di allenatori che sono cresciuti, si sono formati secondo uno stile e secondo così una serie di valori che lo sport è capace, mi varrebbe da dire oggi più che mai di comunicare di veicolare. Però è indubbio che 150 anni di SEF, questo libro lo dice molto bene, V nere, vuol dire in modo particolare basket e siamo e veniamo da giorni di ebrezza perché la Virtus dopo 20 anni ha riportato lo scudetto a Bologna e tutta la città di Bologna, lo dice uno che porta dietro, se si togliesse la giacca bianconera della Talare è fortitudino, me ne vogliono gli amici della Virtus, ma per il ministero che il vescovo mi ha dato sono responsabile del mondo dello sport e devo dire che mi è venuto molto facile entrare in amicizia con il mondo della dirigenza in qualche modo degli atleti della Virtus e qui ci sono diversi amici con cui condividiamo la serata, ma sono proprio contento perché il ritorno allo scudetto a Bologna vuol dire far tornare Bologna quel patrimonio di basket, di cui vi dicevo prima, Basket City. È notizia di qualche giorno fa che la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha dichiarato e riconosciuto un'immagine della Madonna in un santuario, noi diremmo quasi secondario se non tra le ultime file in classifica dei santuari a cui siamo affezionati. Io vengo dalla Mater Day in questi giorni, ho fatto alcuni dei santuari più belli del nostro Appennino, da Bocca di Rio a Montovolo, a Madonna dei Boschi, Madonna dei Fornelli e c'è un santuario a Porretta Termi che si chiama il santuario della Madonna del Ponte, un piccolo santuario che si trova uscendo la Porretta, andando verso Lustrola, verso Granaglione e lì c'è un sacrario. Alcuni anni fa venne dedicato un sacrario al cestista. È divenuto un piccolo luogo, appuntamento di fede per tanti amanti del basket e poi per un po' di anni è andato come un fiume il casico un po' nel nascondimento. Alcuni amici, 7-8 anni fa, hanno in qualche modo riscoperto la storia di questo santuario e di questo sacrario, mi hanno anche convocato e insieme al Presidente della Federazione Basket Regionale, Stefano Tedeschi, insieme a Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Basket Italiana, è iniziato una grande campagna di firme, di per chiedere alla conferenza episcopale che quel santuario potesse essere riconosciuto il santuario nazionale del basket. Bene, qualche settimana fa, prima che la Virtus vincesse, anzi schiacciasse Milano per 4-0, la CEI ha dichiarato la Madonna del Ponte patrona nazionale del basket. Manca ancora un tassello perché questo avvenga ufficialmente, ma di fatto il grande passo è avvenuto, per cui mi verrebbe da dire così, Bologna è la basket city, ma lo è ancora di più adesso perché nella città metropolitana di Bologna, per tutta Italia, per tutti gli appassionati di basket, c'è una Madonna che veglia sugli atleti di basket. Bene, ma vediamoci qualche cosa all'inizio di questa terza serata di Liberi qui a Villa Palavicini, di ciò che è avvenuto qualche giorno fa, anzi dieci giorni fa, in realtà di diacone passati in questi dieci giorni, è successo un po' di tante cose, ma ritorniamo, il nastro lo facciamo tornare indietro per goderci qualche secondo della gara 4 qui a Bologna tra Virtus, Segafredo e Olimpia Milano. Incredibile, Pellinelli lo chiama, lo prende e segna la tripla del più 5. Gamble la palla buttata via, la difficoltà di Lideini in questo tipo di lettura è impressionante, Hunter in chioda e in contropiede a due mani. Wims arresto, bomba! Più 10 massimo vantaggio Virtus. Chiodosic, c'è il contatto con Rodriguez, poi l'assist per Ricci, che forse la chiude qua. Finirà qui, 73 a 62. Dopo 20 anni di modesse soddisfazioni e a poco più di un lustro dall'onta della retrocessione, arriva un imprevedibile cappotto a scaldare il cuore delle W nere. La Virtus torna a cucirsi, lo scudetto sul petto e stavolta Messina è sulla panchina degli sconfitti. Un applauso. Vorrei su questo palco per un saluto brevissimo, ma mi è molto caro chiamarlo il presidente della Virtus, Giuseppe Sermasi. Se vieni qui a salutarci, vi tributiamo un grande applauso e un grande regalo. Luca mi corregge subito perché è presidente della Virtus Basket, perché qui la SEF e la Virtus è tutto un mondo molto particolare. Vieni, sali Giuseppe. C'è un microfono per Giuseppe? Sì, sì, si può elevare. Intanto grazie Giuseppe. Buonasera. Giuseppe, io non so da quando tu sei dentro i ranghi della dirigenza Virtus, ma questo scudetto viene da una lunga storia, lo ricordava prima il telecronista anche con una retrocessione, poi una risalita. È uno scudetto che è valso un po' di dolori, ma anche grandi soddisfazioni. Allora, la storia è molto bella, perché io sono in Virtus dall'anno della retrocessione. quindi dal 2017 io sono entrato in consiglio di amministrazione, c'era ancora il grande Alberto Bucci, presidente a cui... Vi facciamo un applauso all'Alberto. ...che è stato veramente il traino per far rivivere la Virtus. Infatti il presidente Zanetti l'ha ricordato come prima persona dopo aver vinto questo scudetto, perché lui è stato il tramite per creare questa nuova società. Quindi io ho la soddisfazione di aver visto la Virtus partire dalla 2, conquistare subito l'A1, cominciare a preparare una squadra, vincere la Coppa Italia dia 2, vincere la Champions League e poi finalmente vincere lo scudetto, che è inaspettato però nello sport mai dire mai, perché quando delle persone credono all'impresa tutto può essere possibile e veramente quest'anno nessuno si aspettava un risultato di questo genere, ma si vede che la società, i giocatori, l'allenatore, la dirigenza ci hanno messo quell'animo che li ha portati a vincere lo scudetto. Dovete sapere, vi racconto un aneddoto, perché quando ci ritrovamo, esattamente non ricordo benissimo il periodo, ma era a inizio campionato, ci troviamo con Giuseppe, con Luca dal Cardinale, perché i 150 anni della SEF portano un motto che, dopo Luca vi racconterà, è rubato da una espressione del Cardinale, rubato nel senso che siamo andati proprio a parlarne con lui e uscendo sotto, nell'altro, nel cortile della Cevescovado, parlando di basket, Giuseppe mi dice ma Milano è decisamente superiore quest'anno, l'anno scorso Virtus era ampiamente in testa della classifica e per le note vicende del Covid il campionato si fermò e lo scudetto dallo scorso anno, Virtus lo meritava ampiamente, ma all'inizio del nuovo campionato questa frase di Giuseppe, ma la porto dietro, si gioca per arrivare i secondi, e invece non è stato così. Allora, l'anno scorso sono convinto che ci hanno derubato l'anno scorso, quest'anno avevamo anche mille difficoltà, la mancanza del pubblico, alcune gare interrotte, sbagliate e sinceramente il nostro vero obiettivo era andare in Eurolega attraverso l'Eurocup. Però qui, come ho detto prima, il mondo dello sport lascia tutti estere fatti, perché nel momento in cui una squadra doveva essere completamente distrutta moralmente, psicologicamente, dall'obiettivo mancato, molto probabilmente i giocatori, l'allenatore, lo staff tecnico, eccetera, hanno creato quella giusta armonia che ha fatto diventare la squadra forte, ma non forte solo nei campioni, perché la Virtus quest'anno ha vinto per merito degli italiani, non solo per merito di Teodosis o degli altri stranieri. La differenza con Milano si è vista nel gruppo italiano, perché il gruppo italiano è sempre stato integrato all'interno della squadra, quindi ha sempre giocato momenti importanti in tutte le partite e nel momento in cui contava, il giocatore italiano aveva ancora più voglia di esprimere le proprie capacità e cercare di vincere il campionato. Quindi quella è stata la forza della Virtus. La forza della Virtus penso che sia anche nella società, perché in effetti in questi cinque anni, dal 2017 al 2021, la società è stata rifondata, rifondata col merito di persone che con la loro capacità imprenditoriale hanno fatto una trasformazione importante. Il dottor Baraldi ha lavorato giorno e notte per fare questa squadra, Paolo Ronci è un conoscitore di giocatori in maniera favolosa e il dottor Massimo Zanetti è il primo tifoso della Virtus e il primo appassionato della squadra. Quindi per arrivare a un'unione di questo genere e ai risultati di questo genere, la cosa più importante è stata la fondazione di una nuova società che ha la capacità di governare bene e quindi di far giocare la squadra nel migliore dei modi. E allora facciamo di nuovo un nuovo applauso per questa società e per questa dirigenza che ha riportato lo Scudetto a Bologna. Giuseppe ci ha detto che gli italiani hanno avuto un grande merito nella vittoria del Scudetto, questa sera noi parleremo dei 150 anni, quindi sarà una serata storica in cui ripercorreremo alcune tappe dello sport ma anche della nostra società in questi 150 anni ma sarà anche una serata italiana perché fra poche settimane avranno inizio le Olimpiadi a Tokyo e ci saranno alcuni atleti italiani di Bologna, della società Virtus a rappresentare l'Italia e noi saremo come in questi giorni guardiamo l'Italia agli europei, saremo davanti alle televisioni per tifare loro e tifare l'Italia. A questo proposito, siccome sono anche presidente della Virtus Kerma, noi abbiamo a Tokyo un atleta di punta che è Gigi Samele e mi spingo a dire che la medaglia la saporiamo già da vicino e quindi sono convinto che otterremo un grosso risultato, quindi sicuramente a Bologna una medaglia dalle Olimpiadi di Tokyo arriverà. E siamo contenti per l'Italia, per Bologna, per Virtus. Vi chiedo un ultimo applauso prima di dare la parola a Luca per una persona tra di noi e chiedo già a Giuseppe se pensano a qualche cosa, adesso hanno fatto i 150 anni della SEF e ovviamente anche il Virtus Basket ha partecipato come sezione ma c'è una persona tra di noi che meriterebbe in qualche modo dei fuochi l'artificio in Piazza Maggiore o qualcosa del genere, mi riferisco a uno tra di noi che nel 2023 farà 70 anni di abbonamento Virtus e ovviamente era presente all'arena Segafredo nei giorni della vittoria della Virtus, che è qui tra noi. Gli facciamo un applauso, il nome e il cognome te lo lascio a te. Musiani, si alzi. Giampaolo Musiani, un applauso per la fedeltà e per la passione. Ciao Dado, te lo meritavi questo applauso. Luca Corsolini per la serata di questa sera, grazie. Prego, prego. Io ho il microfono cosiddetto archetto. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera anche al mitico Musiani, evidentemente per quello che è successo nelle ultime due stagioni e il record lo deve prolungare fino al 2025 perché sia valido. Io stasera sono particolarmente contento, non emozionato, contento perché quando ti capita di essere parte di una serata in cui ricevi amici che arrivano da Mantova, altri che hai sentito appena qualche volta al telefono stabilendo subito un contatto ottimo o quando ti arriva un atleta come una che presenterò tra un po' che dice sono venuta qui solo per te, tu sei già di aver fatto serata. Però in realtà stasera parliamo di una storia che è la storia della Virtus ma anche la storia di Bologna. Noi diciamo festeggiando i 150 anni che la Virtus è Bologna e Bologna è la Virtus e lo facciamo con questo libro che trovate anche alla vostra sinistra in vendita grazie alla titolare della UBIC, la libreria di Via Ernerio. È un libro in cui c'è tanto sport ma torno a dire c'è tanta Bologna, ci sono tanti ricordi e altri che non abbiamo potuto inserire in questo libro, li vogliamo inserire in una collana che presto lanceremo i quaderni di Virtus 150 per raccontare quell'emozione infinita che è essere parte di una società non solo sportiva, essere parte di una società vuol dire che a Bologna si è Virtussini o come nel caso disgraziato di Don Massimo si è Fortitudini però non ci si sente privi di qualcosa perché si è felici di avere un esempio da seguire. Poi come ha detto lui la Virtus non è che vince un derby, la Virtus è prima per storia, questo è un dato di fatto. I risultati possono cambiare, la storia non si cambia. La Virtus è stata la prima società sportiva di Bologna, una delle più antiche d'Italia ed Europa, siamo più antichi del resto del Carlino per dire di un'altra istituzione bolognese e questo è un dato di fatto che ha una sua pesantezza per noi che la dobbiamo sopportare ma ha una sua leggerezza nel fatto che i risultati poi si rinnovano e si arriva a festeggiare uno scudetto dopo 20 anni che non si vinceva più ma non vorrei restringere il campo al basket. Dopo la copertina del libro in effetti la prima slide che vi facciamo vedere è quella del nostro marchio perché poi Don Massimo ha detto che abbiamo rubato una frase al cardinale, non è vero? Abbiamo chiesto il permesso al cardinale di avere una frase che però viene dopo alcune considerazioni sul marchio. Festeggiando i 150 anni noi volevamo che la nostra storia, la V nera, che è abbinata curiosamente a 4F, quindi vedete che il legame con la fortitudo c'è sempre, che sono le 4F che rappresentano le virtù ideali di un atleta, franco, fiero, fermo, forte, volevamo che la nostra storia, la V nera e le 4F fossero contenute dal presente. Essendo noi nati nel 1871, dunque in un anno dispari, non abbiamo mai potuto celebrare prima una nostra ricorrenza così importante in concomitanza con le Olimpiadi, perché le Olimpiadi sono un evento da anno pari. Però quest'anno eccezionalmente tra le tante sfighe che ci ha portato in dote il Covid c'era anche questa circostanza che invece ci sembrava positiva da sottolineare. Tant'è vero che il marchio diventa color oro, il presente che contiene la storia è oro, ovvero sia il colore dell'eccellenza sportiva, la grafica è quella che richiama le corsie di una pista di atletica leggera e lo zero non è schiacciato per uno sghiribizzo del grafico, è la forma dello stadio panatinaico di Atene dove si svolsero le Olimpiadi, le prime dell'era moderna, nel 1896. Questo a dire una cosa, perché se fate conto agli anni che ho riferito, la Virtus nasce nel 1871 per la precisione il 17 di gennaio, i giochi olimpici nascono nel 1896, quindi la Virtus, Bologna, il suo territorio, l'Italia, hanno fatto nascere il movimento olimpico, lo hanno accompagnato fino a che non è poi esploso davanti al mondo 25 anni dopo. Noi siamo orgogliosi di essere precedenti, di 25 anni, l'inizio dei giochi. È evidente che questo è un legame diretto a cui poi hanno partecipato attivamente delle persone che presenteremo ancora nel corso della serata, ma è un legame che non si può dimenticare, perché di nuovo non possiamo scherzare per un derby, qui parliamo di storia. Virtus e Bologna, Bologna e la Virtus, chi è venuto dopo la Virtus ha contribuito attivamente a che il movimento sportivo, e nel 1871 la parola sport nemmeno esisteva, facesse nascere quello che stiamo per celebrare dal 23 di luglio a Tokyo per le Olimpiadi prima, per le Paralimpiadi poi. Poi c'era evidentemente anche da combattere il Covid. Dovevamo trovare un motivo per andare avanti. Non volevamo che la nostra celebrazione di 150 anni fosse un guardare indietro con nostalgia e malinconia. Semmai volevamo che dalla nostra storia ci venisse la spinta per entrare nel futuro senza nessuna paura. E qui il presunto furto, in realtà un permesso che abbiamo chiesto al Cardinale Zuppi perché ho trovato una frase in un suo libro che non è una frase che è adatta a Virtus 150, è la frase che purtroppo ma anche per fortuna è il riassunto di questi nostri mesi e adesso stiamo cominciando a capirlo. Avrà un futuro chi non ha paura del futuro. Lo sport ha avuto paura in questi mesi, siamo stati fermi per troppo tempo e nemmeno sapevamo quando e come avremmo ripreso, però non avevamo paura del futuro e quindi siamo stati pronti non appena c'è stata la ripartenza, siamo stati pronti per un lato vincendo lo scudetto la Virtus Basket, ma per l'altro, forse ancora più importante, non voglio essere offensivo nei confronti della Virtus Basket e dei suoi tifosi, per la ripartenza dello sport di base, quello che viene celebrato qui alla Pallavicini tutti i giorni, lo sport dei ragazzi ma anche lo sport della terza età. Lo sport che sappiamo oggi essere salute, come se andiamo avanti ci ha insegnato a pensare questa persona. Emilio Bauman non era una persona di Bologna, però questo non vuol dire niente, Bologna ha sempre accolto persone venute da fuori. La cosa particolare è che lui arrivò a Bologna perché chiamato dal Comune, era un neodiplomato, il Comune lo ingaggiò, perdonate il termine sportivo, come maestro e lui arrivò da Canonica Dadda, stasera abbiamo un'altra persona di quella provincia che vi presenterò tra poco, arrivò da Canonica Dadda avendo l'entusiasmo di una persona neodiplomata, però la chiarezza anche di una visione che lui voleva subito non imporre, ma che voleva portare a conoscenza degli altri sicuro che gli altri appena conosciuta questa idea l'avrebbero adottata. E lui pensava negli anni attorno al 1871 che lo sport, e torno a dire è una parola attualizzata perché all'epoca non esisteva la parola, voleva che lo sport fosse insegnato nelle scuole e lui era maestro inizialmente alle elementari. Poi diceva anche altre cose, rivoluzionarie per l'epoca e, credo, rivoluzionarie ancora per il 2021. Lui diceva che le ragazze hanno il diritto di fare sport come lo fanno i ragazzi, non devono fare un'attività di diverso tipo, perché rispettare loro vuol dire permettere loro di fare sport come lo fanno gli altri. Persona quindi di straordinaria lungimiranza, di straordinaria rilevanza sociale. E poi diceva una cosa che, purtroppo, stiamo sperimentando proprio in questi mesi. Lui diceva che lo sport è fondamentale per costruire la salute dei cittadini. Per costruire i migliori cittadini, i migliori cittadini devono praticare sport. Noi durante i mesi del Covid abbiamo vissuto dello sport negato, dello sport fermo, dello sport paradossalmente aperto, che era quello dei negozi di articoli sportivi, aperti mentre non si poteva fare sport. Questa persona nel 1871 fonda la Virtus. Per sua indole non si è mai messo in prima fila, ma lui è stato uno dei pari dello sport italiano e mondiale. Di nuovo, se ricordate, 1871-1896. In quegli anni nasceva la Federazione Ginnastica Italiana, la prima federazione che ci sia mai stata in Italia, che non a caso ha compiuto nel 2019-150 anni. C'erano in lotta due fazioni tra di loro. Una era la fazione piemontese, che diceva che lo sport doveva essere all'avviamento alla pratica militare, e una la fazione reierina, che faceva capo Costantino Reier, altro padre dello sport italiano, ma la Reier è nata un anno dopo la Virtus, che invece diceva che lo sport era un tramite per arrivare a quello che conosciamo oggi, lo sport in tante discipline diverse, ma lo sport soprattutto come modo di essere e come diritto da garantire a tutti per costruire la salute dei cittadini. Emilio Bauman era un esponente di punta della fazione reierina, era un esponente di punta dello sport di allora, pensate che ha disegnato degli attrezzi che sono utilizzati ancora oggi. Se si va in giro per il mondo e si parla di Bauman, la gente ti risponde con maggiore prontezza di quanto non ce ne sia a Bologna, dove l'indicazione per il campo Bauman, che è frequentato anche da una delle ospiti di stasera, è sbagliata perché c'è una N soltanto nel cognome, mentre Emilio Bauman ha due N. però c'è una persona che oggi ha ricevuto e riceve quotidianamente da Emilio Bauman il testimone per portarlo avanti e per portare avanti questa idea di una società sportiva che non si esaurisca nel risultato, ma che voglia e sia intenzionata anche ad avere un ruolo sociale e social. Quella società si chiama oggi SEF Virtus, come detto da Don Massimo, Società Educazione Fisica Virtus, e il presidente che voglio qui sul palco a testimoniare il suo progenitore, se mi perdona il termine, è Cesare Mattei. Cesare. Qui alla tua destra ricevi anche il microfono. Cesare Mattei è poi una persona che ha tante attitudini per essere presidente della SEF. Vedete, io sto un po' nascosto perché non posso parlare di sport e salute, non sono un testimonia credibile, mentre lui da presidente ha anche le physique du rôle. Lui da presidente della Virtus non ha solo le physique du rôle, ma ha anche il sentimento che gli viene da tanti anni spesi con suo padre nello sport e per lo sport. Perché non basta essere nello sport se non si ha un'idea di sé di essere per lo sport. Questa è la sintesi che mi porta a dire che Cesare Mattei non è il presidente di oggi della SEF Virtus, è il presidente ideale della SEF Virtus. Ma che cosa vuol dire essere presidente di una società lanciata da cotanto personaggio, che però per tanti anni è stato trascurato. trascurato. Quest'anno noi abbiamo deciso, tutti assieme, che d'ora in poi ogni 17 di gennaio, compleanno della Virtus, ogni 9 di aprile, giorno della nascita di Emilio Baumann, siano inseriti nel calendario della città. Perché vuol dire che ci siamo tolti una nostra proprietà per donarla a tutti. Quindi essere presidenti della Virtus vuol dire essere presidenti quasi ancora di più di Don Massimo Vacchetti che è fortitudino, di altri che sono della sempre avanti, di altri che lavorano o che dedicano la loro passione ad altre società, vuol dire essere presidente in conto terzi. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie Don Massimo e grazie all'ospitalità che Villa Pallavicini, la Curia, Don Massimo, ha voluto dare alla Virtus questi 150 anni. Lasciatemi dire una cosa, Luca Corsolini da quando si è imbarcato nella vicenda di Virtus 150 si è drogato di Virtus e io credo che non abbia mai conosciuto una persona come sulla conoscenza della Virtus abbia potuto calarsi in racconti anche molto avvincenti, credo che vi riuscirebbe a tenere tranquillamente qua fino a tarda notte, riuscendo anche a giocare molto sui numeri della Virtus. Questi 150, questo 1-5-0 io a Luca l'ho sentito dire in non so quanti racconti, lui riesce ad abbinare e a vedere quanto la Virtus è più vecchia di tante altre realtà. Sì, è vero, la Virtus è vecchia ed è la società sicuramente più antica di Bologna. Essere presidente di questa polisportiva intanto è un onore enorme soprattutto perché è una polisportiva viva. Non è una società come ce ne sono tanti in Italia. C'è un ente che forse qualcuno di voi conosce che si chiama Unasci che è l'unione delle società centenarie. Tante società degne di merito sono all'interno di questo ente ma sono società che portano avanti solo una storia a livello istituzionale. Questa, chi è qui, penso che lo sappia. Questa è una società che non ha solo due sezioni. Le cito intanto per riguardo all'amico e doppio presidente Beppe Sermasi che Giuseppe è presidente, come vi ha detto, non solo della sezione pallacanestro ma anche della sezione scherma. E quindi di una sezione che... Lui si è spinto troppo. Io avrei fatto come... No, ma si è spinto perché sappiamo che abbiamo un'altra medaglia che può essere legata a Bologna. Abbiamo l'assicurazione in platea. A me piaceva di più la scaramanzia e io la ricordo molto bene perché la frase che lui disse a Don Massimo io la ricordo proprio bene. È proprio andata così che lui ha detto noi giochiamo per il secondo posto e la scaramanzia è stata meravigliosa. Quindi non solo queste sezioni ma tante altre realtà io le chiamo sezioni perché in effetti lo sono ma ognuna di queste è autonoma. Tante realtà che continuano a essere vive e a portare tanta attività e tanti campioni perché comunque, ecco, ne cito una che è l'ultima entrata o la penultima che è la pallavolo che forse dopo ve ne parlerà Luca che peraltro gioca proprio presso la struttura della Villa Paravicini che ha guadagnato la Serie A due giorni fa, tre giorni fa. Quindi un'altra sezione che in qualche maniera ha dato lustro a questa alla pallavolo a Bologna perché la pallavolo aveva vinto già due scudetti poi si era estinta come sezione ed è rinata perché per volontà della pallavolo Bologna vollero per una volontà di molti dei dirigenti di quella società trovare una fusione con la SEF o meglio trovare casa nella SEF e quindi abbiamo avuto la possibilità di tornare ad avere una sezione pallavolo. E poi c'è il tennis che negli ultimi anni ha sostanzialmente invertito questa tendenza di tanti anni di calo dei suoi soci che invece fa ancora un'attività molto fiorente oggi come oggi il circolo tennis di Bologna della Virtus Tennis è uno, direi, dei due circoli più grossi e più quotati a Bologna. Ho visto prima il presidente della sezione calcio una sezione che forse negli ultimi tempi ha espresso meno ma è una sezione che nei tempi passati ha espresso tanto addirittura forse qualcuno di voi non lo sa io questo l'ho sempre imparato dagli autori del libro perché il bello di questo libro è anche proprio leggerlo non solo guardare le fotografie che sono meravigliose e dovrei dirvi tante cose lasciatemi dire che l'archivio Breviglieri che il patron della Minerva Roberto Mugavero ci ha dato la possibilità di avere e per questo lo ringrazio e chiedo un applauso perché l'archivio Breviglieri è un archivio fotografico meraviglioso. Voi guardatevi alcune foto che poi noi abbiamo avuto il piacere di mettere in pannelli io ne cito sempre una perché è la foto per me per antonomasia della bellezza di quel momento fotografico di quella fotografia rubata e quella foto a cui faccio riferimento è un campione di marcia che aveva appena non si può dire le sorprese non si svelano prima non si dice ah ecco perché c'era anche quella vedi vedi che io faccio le fughe in avanti comunque tante sezioni ripeto non solo basket non solo scherma il tennis l'atletica che sicuramente ha avuto e continua ad avere dei grossi campioni e poi non va dimenticata la sezione da cui tutti siamo partiti che è la sezione di ginnastica che poi ne ha gemmate tante altre che peraltro adesso sta così gestendosi in una situazione di sede non troppo facile forse qualcuno lo sa la sezione ginnastica svolge la sua attività allo sterlino insomma diciamo una struttura che era era al top quando fu fatta 40 anni fa adesso ha qualche segno di anzianità e quindi infatti sarà oggetto è già stato oggetto di un bando e quindi dovrà essere oggetto di un intervento comunque ho divagato ma perché è giusto che tutte le sezioni siano un po' citate allora io vi chiedo un applauso per Cesare Mattei perché avete sentito che tutto lo merita per passione faccio la valletta che fa tutto da sé e ti offro la sedia qua perché noi dobbiamo andare avanti però adesso tra un po' avrai un ruolo anche attivo perché andiamo avanti sono stato passivo fino ad adesso no no attivo nella maniera in cui piace a te ha detto Cesare siamo partiti tutti dalla ginnastica bene quando nasce la Virtus non si chiama ancora Virtus perché il nome arrivò solo e soltanto nel ventesimo secolo ma quando nacque e ce lo fa adesso vedere Francesco Spada si chiamava società sezionale di ginnastica perché all'epoca ginnastica non era il nome di una disciplina era il nome del tutto gli atleti erano dei ginnasti la ginnastica era la materia che comprendeva tutto e quindi era più facile e più giusto parlare di ginnastica che non di sport anche perché il tema non esisteva poi però abbiamo subito messo i cavalli delle sette leghe e andiamo avanti per vedere i primi atleti Virtus che vincono alle Olimpiadi qui vedete Giuseppe Domenichelli e Savorini nella fortitudo quindi il derby all'epoca non esisteva Domenichelli vince la prima medaglia d'oro nel 1920 nella ginnastica squadra ma già c'erano stati dei successi nel 1908 ancora nella ginnastica e anche nella scherma già con la sciabola che evidentemente è stata poi una disciplina che è rimasta intimamente legata a Bologna sapete che Bologna è una capitale della scherma gli studi di Marozzo che risalgono al 1500 dicono che la scherma è nata qui e non era evidentemente la scherma sportiva quella dell'epoca era un'altra scherma ma evidentemente qualche traccia è rimasta se poi andiamo avanti arriviamo a vedere un campo sportivo che magari adesso è difficile riconoscere perché ha cent'anni perché fu acquistato dalla Virtus nel 1921 quella che vedete in alto la palazzina è quella che oggi è la palazzina del tennis difficilmente riconoscibile perché via Galimberti vedete nascosta dagli alberi è arrivata dopo via Galimberti invece qui sul margine inferiore dello schermo il rettilineo si affaccia su via Valeriani come ancora oggi c'è in fondo a metà dello schermo sul limite esterno del lato corto dello schermo non si vede l'angolo dove c'è la palazzina storica della Virtus ma questo è un quartiere che è diventato il primo polmone polisportivo della città poco più lontano c'è lo stadio però vedete quanta area che vuol dire anche quanta visione avessero i dirigenti dell'epoca occupava la Virtus il calcio l'atletica insieme non si vedono benissimo perché immagino siano contro luce i campi da tennis che c'erano all'epoca oggi dove ci sono le tribune in questa foto ci sono già anche i campi da paddolo perché evidentemente tutto si rinnova volevo dire prima una battuta spero di non essere offensivo verso i duri quando Cesare ha menzionato il presidente della società della sezione calcio la Virtus è talmente attenta ai particolari che il presidente della sezione calcio si chiama pallone quindi non è che andiamo troppo lontani e abbiamo una nostra coerenza di fondo e qui ci sono poi tante altre discipline che sono sempre state praticate ma è questo è uno dei modi per cui ancora oggi si dice dove vai vado alla Virtus a Bologna noi diciamo vado alla Virtus vado al palazzo perché le destinazioni sono diventate una dichiarazione di identità e questa è una cosa che è stata resa possibile da questo impianto che festeggia quest'anno cento anni li dimostra un po' ma li dimostra positivamente perché sono tante persone che sanno che cosa vuol dire essere stati lì essere cresciuti lì aver portato i figli lì aver portato i nipoti lì stasera ho avuto il piacere di regalare il mito della vulnera 150 a un nonno che si era posto il traguardo da nonno di far vedere le olimpiadi a sua nipote per tutte le stati e da quelle sue visioni che non erano forzate ma erano un regalo straordinario da nonno è arrivata una cosa che adesso vi presenterò andiamo alla prossima slide per dire una cosa poi importante noi si parla di Virtus ed è giusto che si parli di Virtus perché abbiamo detto la Virtus è Bologna e Bologna è la Virtus 150 anni non possono essere riassunti con dei nomi però ogni tanto è giusto fare delle parentesi e dedicare attenzione particolare a un nome e a una figura noi da quest'anno festeggiamo il 17 di gennaio compleanno della Virtus il 9 di aprile giorno della nascita di Emilio Baumann e il 20 di maggio giorno di nascita di Ondina Valla che nel 1936 è stata la prima italiana a vincere un oro ai giochi la prima italiana a vincere un oro ai giochi quindi vuol dire che dopo di lei sono venute tutte le altre che tutte quelle che sono venute dopo di lei devono a lei un minimo di riconoscenza anche perché poi la sua storia purtroppo è straordinariamente attuale nel testimoniare il fatto che per le ragazze non sempre è facile fare sport lei era pronta a partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932 però ci fu chi valutò non conveniente per lei un viaggio in transatlantico sola ragazza in mezzo alla delegazione di quei fustacchioni degli altri azzurri quindi dissero Ondina poi oltretutto Ondina le schiamava Trebisonda per una una visione particolarmente affezionata per la cittadina turca da parte di suo padre Ondina dovette rimanere a casa non poter partecipare poi quattro anni dopo vinse e ripeto primo oro di un'atleta italiana in una gara particolare perché quel giorno a Berlino con un rudimentale fotofinish che oltretutto era stato studiato da Lenny Riefenstahl la regista del Terzo Reich arriva a quarta Claudia Testoni che era la sua amica per la pelle gareggiavano due atlete bolognesi nella stessa gara una vinse l'oro l'altra vinse la modaglia di legno fu anche abbastanza normale che poi un rapporto così stretto si guastasse per la diversità del risultato ma poi sono state anche così brave da recuperare il sentimento vero dell'amicizia però Ondina Valla per noi diventa uno spunto diventa uno spunto proprio perché non possiamo oggi in assoluto 21 gennaio 2021 ma questi momenti trascurare l'importanza dello sport femminile i diritti delle donne non sono i diritti delle donne i diritti delle donne sono i diritti di tutti se noi ci dimentichiamo di quello vuol dire che abbiamo sbagliato tutto e noi stasera vogliamo cominciare a ricordarci dei diritti delle donne mettendo in vetrina non in maniera sgarbata ma anzi in maniera molto garbata spero due donne speciali che oltretutto speciali sono più ancora che per i loro risultati perché hanno avuto il coraggio di venire qui la prima persona che faccio venire qui sul palco è una componente del comitato promotore di Virtus 150 150 anni 15 persone nel comitato promotore 8 uomini e 7 donne a dire che la parità di genere si deve raggiungere e non è un'opzione basta impegnarsi noi quindi abbiamo scelto 8 uomini e 7 donne ma una di queste 7 donne non è nata a Bologna di nuovo non ce ne può affegare di meno perché lei a Bologna risiede si allena seppur è sposata ma soprattutto c'è un legame con il fondatore della Virtus lui veniva da Canonica Dada provincia di Bergamo lei viene dalla provincia di Bergamo in provincia di Bergamo ha appena stabilito il nuovo record del mondo di salto in lungo lei è la nostra rappresentante alle Paralimpiadi di Tokyo e con noi questa sera Martina Caironi allora ci dovrebbe anche essere un omaggio floreale per Martina Roberto se mi indirizzi la persona eccola qua la signora signorina forse non vorrei fare delle gaffe non tu lei è Martina Caironi evidentemente buonasera adesso abbiamo perché occuparsi di 250 vuol dire anche prendere delle lezioni più che volentieri e ogni volta che c'è è saltato il mio collegamento ogni volta che c'è un evento con una signora o signorina coinvolta Cesare Mattei mi ha opportunamente cazziato chiedo scusa Don Massimo se ho detto cazziato due volte però ogni tanto bisogna dirlo perché io non avevo previsto la consegna dei fiori che invece che invece adesso no anche questo non va abbiamo un blackout con questo posso parlare mi sentite ugualmente non posso neanche dire di essere il bello della diretta perché non ho le physique du rôle glielo faccio dire a Cesare Mattei che è il bello della diretta mi sentite ugualmente sì adesso mi sentite ugualmente tengo l'archetto tengo il gelato ok no perché avevo sì io avevo anche piacere di tenere il gelato non il microfono ma avete capito quale Cesare Mattei mi ha insegnato che bisogna sempre regalare un fiore non solo e soltanto a fidanzate moglie compagne e quant'altro ma alle signore di cui si ha grande rispetto e per cui si prova grande affetto Virtu 150 ha grande rispetto e grande affetto per Martina Caironi quindi lo mangio grazie grazie che meraviglia no ma poi adesso ti faccio vedere io la meraviglia qual è perché poi in ambito sportivo la meraviglia è anche indossare non solo un vestito floreale come quello che hai tu ma indossare anche una divisa questa è la canotta vintage di Virtus 150 alla vostra sinistra ne trovate anche degli esemplari in vendita cica cica boom boom e noi ti regaliamo questa divisa perché tu la possa indossare non allo stadio di Tokyo perché durante la cerimonia paralimpica devi giustamente esibire con orgoglio la divisa tricolore ma hai benissimo capito che ti facciamo gli auguri perché tu possa se non altro realizzare la profezia di Sermasi e quindi hai questo incarico quindi ti aggiungo anche questo allora puoi presentare Martina Caironi a persone che di Martina Caironi hanno sentito qualcosa ma non tutto racconta proprio Martina Caironi in modo straripante come sei capace di fare tu ok allora innanzitutto io sono qua grazie a questo signore che mi ha coinvolta in questa avventura e ho accettato perché come saprete è una persona con molta passione e quindi quando c'è passione io penso che bisogna sempre dare fiducia e valore alle persone quindi grazie grazie a te cercherò di presentarmi anche se comunque l'hai già fatto io appunto vivo a Bologna da cinque anni sei anni sono di origine bergamasca e Bologna è la mia seconda casa ho un passato da atleta da pallavolista da pattinatrice da tante cose e all'età di 18 anni la mia vita è cambiata perché ho perso mezza gamba e quindi ho iniziato una nuova carriera nell'ambito dell'atletica paralimpica ma grazie mi ha addobbato come un albero di Natale però apprezza che l'intervento della signora quindi già due figuracce una con Matteo e una con la signorina stasera ho fatto il pieno mi ha dato del drogato anche e quindi insomma ho iniziato la mia carriera da atleta paralimpica nel 2010 oggi all'età di 31 anni sono alla mia terza paralimpiade per noi insomma atleti sia olimpici che paralimpici comunque questo ritardo di un anno è stato sicuramente difficile perché devi tenere botta appunto 12 mesi in più mentalmente fisicamente infatti adesso è proprio il momento clou per quello ti ho detto sono venuta solo per te perché potete immaginare che dopo un allenamento a 50 gradi Fahrenheit la pressione cala e uno vorrebbe stare con le gambe in alto a parte gli scherzi sono qui volentieri proprio perché mi hai invitata tu e perché credo che insomma essere riconosciuta anche in una città che non è la mia di origine sia un grande onore e in più sinceramente sono molto interessanti tutte le cose che avete detto perché non essendo Natia io magari tutta questa storia non lo so dove c'è storia c'è cultura sicuramente io mi sento a mio agio e vi invito a seguire chiaramente le Paralimpiadi a seguire non solo me a seguire quello che è la Paralimpiade quindi anche finalmente per esempio l'altro giorno mi hanno fatto un video una ripresa in cui finalmente mi hanno detto parlaci da quando ho iniziato a fare atletica in poi quindi senza voler dimenticare sicuramente tutto il periodo in cui uno ha perso la gamba ha reagito eccetera però quando si parla di sport è bello dare la dignità giusta che anche lo sport paralimpico merita quindi parliamo di sport parliamo di tecnica parliamo di per esempio delle categorie funzionali che nessuno conosce io ho fatto un record del mondo nel salto in lungo con 5 metri e 19 l'altro giorno a Nembro però alle Paralimpiadi gareggerò con un'avversaria australiana che ha un'amputazione doppia e che ha un personale di 5,30 quindi verremo accorpate e nonostante io abbia fatto il record del mondo non è detto che io possa arrivare a quella bellissima medaglia che è innominabile e che hai già vinto due di medagli innominabili però sì ma quando le hai vinte ne puoi parlare un sacco prima no prima bisogna solo allenarsi e faticare quindi insomma grazie mille no aspetta lo tu hai detto è bello che ti hanno chiesto della dignità della tua vita da sportiva senza stare a soffermarsi troppo sui tuoi trascorsi sull'incidente puoi raccontare come e dove ci siamo conosciuti tu e io perché la prima volta eravamo al centro dello stadio olimpico a Londra tu dicevi che cosa della cerimonia di apertura ti ricordi oddio no dillo tu a questo punto no perché tu non ti ricordi però io ti ho chiesto non lo so ma in questo momento come ti senti a essere qui in mezzo e tu hai detto è una figata è una figata eravamo durante la cerimonia di apertura delle paralimpiadi le paralimpiadi di Londra sono state l'emozione più grande che una persona amante di sport amante di società potesse essere potesse realizzare sì io mi ricordo che ci siamo visti in tante occasioni e sicuramente quella è stata una delle dei momenti proprio più belli di tutta la mia carriera forse anche della mia vita perché Londra 2012 non solo è stato arriviamo a casa sì ma per me non solo è stato l'esordio è stato anche conoscere una realtà che non mi aspettavo così grande un'attenzione da parte del pubblico lo stadio pieno 80.000 persone ti senti proprio al centro del mondo al centro del ciclone e sei tu proprio che magari fino a pochi anni prima eri in quel letto d'ospedale senza appunto voler di nuovo tornare sul discorso però di fatto è così e la dignità che lo sport paralimpico sta acquisendo sempre di più sta proprio anche in questo cioè nel riconoscere l'atleta per quello che fa quindi piano piano riconoscere il gesto tecnico e non voglio dire che però insomma le storie sono tutte diverse tutte molto importanti però insomma credo che sia giunto il momento di andare anche oltre e di non focalizzarsi solo sull'aspetto umano che sicuramente ci sta dietro al lavoro di un atleta paralimpico che tra l'altro l'aspetto umano l'aspetto della fatica e tutto ci sta dietro c'è anche dietro tutti gli atleti normo con pezzi meno grazie Martina grazie a voi buona serata in bocca al lupo in bocca al lupo per Tocchio viva il lupo noi abbiamo un'ambizione avendo un nome che è facilmente riproducibile anche in sigle brevi abbiamo l'ambizione di aprire una sezione VIP dove per una volta VIP non voglia dire quelli che saltano le file quelli che si comportano male ma VIP sia la sintesi di Virtus Paralimpica e noi vorremmo che il messaggio di trattare gli atleti disabili come dei VIP coerentemente con quanto ha detto Martina quindi senza nessun pietismo ma con grande onestà diventasse il messaggio di Bologna oltretutto ha tanto impegnati dal fatto che noi siamo la città forse leader nel mondo perché al centro INA e il Divigorso di Budrio si realizzano protesi per tutti quanti alle Paralimpiadi succede che ci sono gli atleti dei paesi più poveri e non è che lo dico per fare sensazionalismo che arrivano volutamente con le carrozzine vecchie perché sanno che alle Paralimpiadi possono ricevere gli strumenti nuovi gli vengono date le carrozzine più aggiornate le protesi più aggiornate perché per loro le protesi non sono soltanto il mezzo per arrivare al risultato ma sono il mezzo per avere una vita migliore quindi noi vorremmo che grazie a Virtus Paralimpica a VIP tutti gli atleti disabili sapessero di poter trovare un posto qui per essere trattati come meritano da VIP però restiamo in ambito olimpico e restiamo in ambito Virtus 150 una società sportiva compie 150 anni se è capace di rinnovarsi e allora noi ancora non sappiamo come e se avremo una sezione dedicata a una disciplina nuova come quella che stiamo per presentare però sicuramente dobbiamo stare attenti al fatto che i ragazzi oggi praticano lo sport in maniera diversa dal passato allora stasera io chiedo al prossimo ospite di salire sul palco assieme a quello che è il suo compagno quotidiano un compagno con un po' di rotelle si chiama Skate ma soprattutto lei si chiama Asia Lanzi prego Asia allora intanto che lei sale sul palco io dico perché non tutti conoscono Asia Lanzi però dico che adesso riceve il gelato e tra poco riceve anche i fiori io dico che lei è la vera speranza bolognese all'Olimpiadi poi adesso lei mi guarda già male dicendo fatti gli affari tuoi che a Tobi ci devo andare io però intanto ti volevo dare il benvenuto sul palco ci presenti il tuo amico questo? sì lo devo fare? no avrà un nome tu lo chiami con un nome o no? visto che è stato insieme tutti i giorni no il mio skate come lo devo chiamare? allora dall'accento si capisce che non sei minimamente bolognese quindi non puoi esatto se vuoi raccontare qualche cosa di più perché tu sei la ragazza di cui raccontavo io prima quella con il nonno che ti ha messo davanti alla televisione invece che dirti cenerento la biancaneve pinco palla ha detto guarda tirvele in piedi che impari delle robe più belle cos'hai imparato tu? io ho iniziato a fare sport quando ero veramente piccolissimo io ho iniziato con lo snowboard a due o tre anni quindi ho passato tutta la mia vita a praticare sport così quindi poi l'estate ero sempre da mio nonno così lui guardava le olimpiadi io mi mettevo lì con lui a guardarle e sicuramente ho imparato tanto poi all'epoca lo skate non era ancora uno sport olimpico quindi ero lì magari ho sempre avuto magari il sogno di andarci un giorno non pensavo così presto perché alla fine lo skate è stato introdotto nel 2016 e quest'anno qua sarà la sua prima volta e è sicuramente un sogno allora un sogno che però è stato anche un po' complicato vogliamo raccontare la tua storia tu hai approfondito il tuo legame con lo skate la volta che voi siete dovuti andare via di casa per colpa del terremoto che aveva colpito la nostra regione sì io ho iniziato a fare le gare nel 2012 e in seguito al terremoto così avevamo paura di stare in casa dovevamo dormire in macchina perché poi io adesso vivo a 100 e 100 era 10 km dall'epicentro quindi vicinissimo ed estate abbiamo preso siamo andati all'Ido di Camaiore e c'era il campionato italiano allora ho detto vabbè provo solo che all'epoca non c'era neanche la categoria delle ragazze perché ero l'unica ragazza in gara quindi ho partecipato con gli under 16 e sono arrivata terza allora ho detto ma allora ho anche qualche possibilità di farcela e l'anno dopo siamo andati a Parigi che c'era la World Cup per potermi poi mettere in gioco con le altre ragazze di tutto il mondo e sono arrivata sesta quindi ho visto che comunque sia poteva diventare oltre che una passione un lavoro un lavoro addirittura tu hai detto un lavoro e tuo nonno non ti ha cazziato devi avere prima passione per lo sport no c'è mio nonno allora quando ero piccolina che io gli dicevo sempre adesso mi cazzierà perché lì però gli abbiamo dato il libro da leggere quindi magari si concentra sulle pagine non ascolta io dicevo sempre che un giorno mi sarebbe piaciuto che lo skate diventasse il mio lavoro così e lui non ci credeva più di tanto perché lo skate soprattutto le persone anziane non ci va sullo skate tu nonno? no penso anche lo skate non sia uno sport che comunque sia visto un po' un po' così dai penso anche comunque sia siamo tutti dei teppisti tu sei una teppista? no 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 anziane no no però questo è un tema interessante perché tu in tante interviste hai dichiarato a difesa del tuo sport noi non siamo uno sport così per dire siamo uno sport figlio del 2021 sì diciamo che secondo me lo skate sarà un po' lo sport del futuro perché io vedo comunque sia in seguito alle olimpiadi a il lockdown che comunque si è avvicinato un sacco i giovani a questo sport perché si pratica all'aria aperta è uno sport individuale io vedo che c'è stato veramente un boom che mai visto così tanta gente skateare e non è che andiamo in giro a spaccare i muretti queste cose qua la maggior parte della gente che magari degli skater che si vede per strada è perché non ci sono strutture e quindi l'unica cosa da fare è andare per strada perché strada ci racconti la tua disciplina che poi proprio in partita la tua specialità è proprio quella dello street della strada allora lo skate ci sono due discipline c'è lo street che praticamente all'interno di uno skate park vengono ricreate le strutture che si trovano per strada quindi morette ringhiere scalinate mentre il park sono praticamente quelle specie di piscine svuotate quindi quelle rampe tutte curve io faccio street cos'altro ci puoi dire a parte il fatto che devi respingere da subito l'accusa di essere in vantaggio a garaggiare a Tokyo visto che ti chiami Asia no puoi anche dire tranquillamente delle domande stupide ne hai fatte abbastanza datemi i fiori che scendo dal palco no io cioè come sempre cerco di dare il 100% di me stessa e penso che la vittoria più grande sia poter tornare a casa senza avere impianti di sapere di aver dato il 100% hai già fatto un passo un passo deciso magari sullo skate verso il podio con questa dichiarazione adesso ti dovrebbero arrivare i fiori però intanto chiedo a te visto che non sei floreale come Martina se a beneficio dei fotografi vuoi indossare la canotta che ti diamo che è anche molto molto da skate tengo io il tuo amico dammi il gelato che sono abituato a mangiarne vai la v di veloce come il vento è una dote che ti serve la velocità? ok allora la indossi opportunamente dovessimo aprire la sezione Virtus di skate al di là del fatto che avremmo già una presidente o forse vuole farlo tuo nonno non lo so nominiamo tuo nonno presidente lui sarebbe anche capace allora nominiamo tuo nonno presidente tu da capitana della squadra di qual è il regolamento per essere atlete della Virtus skate avere passione ok ci sta secondo me ci sta secondo me quello lì è la cosa fondamentale poi tutto il resto viene da sé grazie ancora Asia in bocca al lupo per Tokyo adesso vediamo ti facciamo aiutare ti prendiamo questo così lui lo puoi portare a casa prova a rifare un attimo perché io me lo darei in faccia tranquillamente quanto serve per imparare a fare come hai fatto tu? due minuti quando becchi uno per la strada davanti a te col monopattito cosa fai? gli fai le pernacche o lo sgambetto? no no dipende grazie mille Asia in bocca al lupo per davvero presidente 150 anni di storia sono riassunti dalle parole che abbiamo sentito adesso Martina Caironi non c'era nel 1871 lo sport paralimpico Asia Lanzi non c'era nel 1871 lo skate quanto è difficile sapersi aggiornare? ma guarda io non conoscevo io non conoscevo il nonno di Asia io non conoscevo il nonno di Asia che probabilmente è coitaneo no no ma il nonno di Asia è il nostro MVP della serata lo dico senza offesa non è una parolaccia MVP la most valuable person la persona più importante della serata no sapersi sapersi aggiornare sì sapersi aggiornare ma guarda io credo che sia importante essere al passo con quello che l'evoluzione dello sport richiede il fatto stesso che ieri ero a una manifestazione questa non è fra le discipline che hai proposto che entrassero nella Virtus ma se te ne parlo forse vuoi che entri anche quella che è il free climbing da quest'anno come tu sai è disciplina olimpica e entro la fine dell'anno saranno anche federazione sportiva quindi sono transitati da disciplina associata io ho visto come vedo negli occhi di Asia e di tutti questi giovani ragazzi che fanno queste discipline nuove questa passione che non è solo la passione dello sportivo che è comune a tanti sport ma è la trasposizione di quello che tanti ragazzi fanno nella vita comune il fatto che lei dica che vede tanti ragazzi che fanno skateboard che in effetti magari all'uomo della strada dà anche fastidio perché molto spesso vedi degli skateboardisti si dice così ok che magari ti passano velocemente io preferisco quelli a quelli che hanno il monopattino forse perché paradossalmente chi ha il monopattino è anche più insicuro non dovrebbe essere così ma in effetti l'ha dimostrato anche quello che è successo qualche giorno fa in una città molto grossa quindi io credo che essere al passo con i tempi voglia dire essere anche in grado di capire quali sono queste nuove discipline ad esempio il parkour è un'altra cioè queste nuove discipline per le quali le persone di una certa età sicuramente sono fuori come visione ma che sono le discipline dei nostri figli dei nostri nipoti quindi da questo punto di vista lo sport deve dare anche questo tu ed io abbiamo una visione un po' diversa di un altro tipo di sport ma forse non ne parliamo stasera non è una visione poi diversa non ne parliamo ma non è poi diversa come pensi tu sugli esports sì io non ho io non ho mai giocato a un videogame quindi probabilmente non si dovrebbe neanche dire videogame quindi la mia curiosità non è quella del praticante che vuole insegnare agli altri quanto è importante l'esports la mia curiosità è quella di vedere quanta gente che rischia di allontanarsi dal campo tradizionale va da un'altra parte per cercare di avvicinarla però questo è un tema che vale per un'altra volta stasera abbiamo messo in agenda due appuntamenti allora olimpiadi seguire Asia Lanzia specialità street dello skate e seguire Gigi Samele e tutto il resto della Virtus Scherma oltretutto nella gara femminile della sciabola Olga Karlan sua fidanzata però è bolognese d'adozione quindi abbiamo questi appuntamenti poi altra disciplina che esordisce a Tokyo 3 contro 3 avevamo fino a poco fa in città la realizzatrice del tiro che ha dato la qualificazione all'Italia Ray Daly adesso lei è andata a giocare a crema però la Virtus ha rimediato perché ha preso Giulia Ciavarella che è un'altra della nazionale che andrà a Tokyo quindi abbiamo anche un altro appuntamento con il 3 contro 3 e un altro appuntamento con Virtus però stasera stiamo viaggiando tra futuro e passato proprio perché la sintesi è il presente che viviamo assieme quindi possiamo andare avanti con le altre immagini per vedere che cos'è la storia dello sport nel 1952 a un atleta che tornava da Helsinki con l'oro nella 50 km di marcia succedeva di essere portato in trionfo su un'auto scoperta nel centro di Bologna vedete alla destra c'è addirittura il tram che adesso sta per tornare non si riconosce al volo che questa è via Ugo Bassi perché in realtà non c'è la statua di Ugo Bassi che adesso è all'incrocio con via Nazario Sauro ma l'atleta che saluta è Pino Dordoni che oltretutto era un piacentino tesserato dalla Virtus non dico espressamente per quello ma al contrario tesserato dalla Virtus perché la Virtus era allora già un richiamo per gli atleti che volevano fare attività a un certo livello e quindi lui per potersi preparare al meglio scelse la strada della Virtus andiamo avanti grazie Francesco qui veniamo poi al basket il basket a dire due cose perché vedete che questa è sala borsa dico vedete perché immagino e spero che tanti di voi adesso la siano tornati a frequentare come biblioteca una delle caratteristiche della Virtus in 150 anni di storia è che ha scoperto degli spazi nuovi per sé e per la città prima palestra della Virtus l'Aulamagna di Santa Lucia oltretutto con il nuovo rettore e a lavori terminati contiamo di portare la nostra mostra Virtus a ottobre proprio in quei luoghi poi dopo la guerra Santa Lucia non poteva più essere utilizzata si andò in sala borsa fino a che poi la sala borsa non diventò troppo piccola per il basket e si passò da un'altra parte ma siamo arrivati a vedere Giampaolo Calanchini quindi la sciabola quello si era uno dei tanti derby perché all'epoca c'erano anche delle squadre che non era solo soltanto la fortitudo vedete qui la squadra che gioca contro la Virtus è il Gira non tutti sanno che il Gira si chiama così perché fu una società creata da degli appassionati di Girardengo dei tifosi di Girardengo che però essendo bolognesi dovettero darsi forma in una squadra di basket per poter avere una loro dignità andiamo avanti perché arriviamo a Giampaolo Calanchini abbiamo detto c'era già stato Pinzio Biruli ad anticipare i suoi successi Calanchini vince le medaglie con la squadra di Sciabola a Roma nel 60 e a Tokyo nel 64 e con lui inizia la nuova storia della scherma che in quegli anni si trasferì prima al Paladozza poi più recentemente nel 91 nella tua sala d'armi che è allo stadio andiamo avanti e qui abbiamo invece gli anni d'oro del tennis il tennis a Bologna è nato a nuova vita negli anni 60 perché i migliori giocatori erano qui è stato celebrato ricorderete l'anno scorso il cinquantenario della sfida che fu un altro passaggio di consegne tra Pietrangeli e Panatta partita che si svolse proprio alla Virtus Tennis andiamo ancora avanti e qui arriviamo al Paladozza che è il terzo impianto che la Virtus ovviamente in concorso con altri ha regalato alla città era un'intuizione del sindaco Dozza c'era quest'area centrale che era ancora coperta di detriti della seconda guerra mondiale il palazzo fu costruito lì anche per un motivo semplice la gente era abituata ad andare a vedere le partite in centro quindi il sindaco disse la gente deve mantenere le sue buone abitudini e di andare a vedere le partite in centro il palazzo di Bologna il Madison o Paladozza che si voglia dire è il palazzo dello sport più centrale che c'è in Italia proprio per questo motivo per il carattere sportivo che Bologna ha assunto negli anni e perdonatemi spero non sia una ruffionata ma secondo me invece è proprio un'analisi storica ha assunto negli anni questo carattere sportivo la nostra città proprio per quello che è stata la semina operata da Emilio Bauman e da quanti con lui hanno lavorato alla Virtus Prima alla Fortitudo Poi al Bologna Calcio alla Sempre Avanti a tutte le società del nostro territorio noi oggi ci definiamo la dotta la grassa la rossa ma sarebbe anche ora che ci riconoscessimo come la sportiva purtroppo non ci hanno voluto per il momento accettare nella lista d'eco dei prodotti anche intangibili che meritano la denominazione comunale proprio perché non è ancora previsto che lo sport sia riconosciuto come tale ma invece lo sport è un bene intangibile di Bologna che tutti ci invidiano e quindi è paradossale che non sia riconosciuto come un bene da anche catalogare andiamo avanti qui c'è l'avvocato Porelli su cui forse è giusto che spenda due parole Cesare per testimoniare non solo e non soltanto quello che è stata la sua carica innovativa nel basket ma anche per testimoniare quello che è stato il suo ruolo nella prosecuzione della Virtus in anni in cui non bastava più forse la spinta storica e doveva essere rinnovato un po' il lavoro per poter andare avanti nel migliore dei modi Beh, l'avvocato Porelli nasce dal tennis ha fatto quello che ha fatto nella Virtus Basket credo che non ci sia un commentatore di basket che non ricordi parlando della Virtus l'avvocato Porelli poi negli ultimi anni quando uscì dal basket si dedicò appieno a quello che era la SEF e fece anche una donazione alla SEF questo gli va dato atto volendo in qualche maniera dare la continuità a quello che la SEF stessa per suo obiettivo aveva cioè di salvaguardare il marchio l'immagine della Virtus e il fatto stesso di celebrare questi 150 anni confermano quello che è l'obiettivo principale della SEF che non ha nulla cioè non ha nulla a che vedere lascia aperta la funzione propria di tutte le sezioni ma la SEF questa è la funzione principale devo dire che è stato sicuramente dal punto di vista manageriale il primo vero manager nell'ambito del basket in Italia quindi è quello che ha lanciato la Virtus è quello che ha sicuramente avuto anche il merito di riportare una Virtus che poi ha cominciato a segnare direi un ventennio di vittorie e poi c'è stato un passaggio a vuoto è stato inclemente però prima il commentatore dicendo parlando di scarsi era un commentatore di una nuova generazione forse più informato sulle performance di Asia Lanzi che non della storia del basket ma è quello che capita quando una società ha 150 anni andiamo avanti proprio perché questo succede come diceva prima Cesare la Virtus pallavolo vinse due scudetti prima poi di scomparire dall'orizzonte in realtà poi è sostituita abbondantemente dalla Zinella però sabato l'attuale pallavolo Bologna ha guadagnato la promozione nel campionato di A3 che non vi deve trarre in inganno è un avvicinamento alla Serie A così denominato per dare maggior organicità ai campionati di Serie A separandoli da quelli ancora diciamo così dilettantistici e vedete che all'epoca in cui la Virtus pallavolo vinse gli scudetti già si era a Basket City perché non c'erano le tribune molto piene di gente quanto poi invece furono negli scudetti della Zinella andiamo ancora avanti e torniamo inevitabilmente al basket questa è la squadra della Stella oltretutto facile da ricordare per i due personaggi in giacca e cravatta alla vostra destra Ettore Messina giovanissimo alla sinistra Alberto Bucci già applaudito prima ma credo che un altro applauso lo si faccia volentieri poi vedete al centro della foto il numero 15 è Marco Bonamico che mi piace sottolineare intanto perché è un amico bon amico e poi perché lui è il promotore di uno dei progetti che dimostra come la Virtus sappia e voglia rinnovarsi e lui è il responsabile della sezione Virtus Wellness che sarà operativa breve e che oltretutto ha già una sua medaglia d'oro al petto perché propone un programma che si chiama Sport Vax che è di riabilitazione fisica per quanti hanno avuto il Covid quanti hanno avuto il Covid purtroppo non viene detto ma conservano tracce permanenti di questa malattia e hanno bisogno quindi di allenarsi anche se prima non erano sportivi per tornare alla loro vita migliore ma di questo parleremo più avanti nell'estate e poi al momento della ripresa andiamo avanti ancora qui c'è uno scarto temporale e arriviamo appunto ai 20 anni di distacco dall'ultimo scudetto perché questa è la squadra dello Slam quindi vedete Ginobili vedete Iaric vedete Abbio Rigodò poi si vedono un po' meno quelli in seconda linea però non sono da meno anche loro Frosini Andersen Griffith Smodish poi Bonora Sconocchini mi manca solo il numero 9 Andrea Tonnelli mi puoi aiutare? Ne ho preso uno che vede meno di me quindi siamo a posto prima della fine della serata cortesemente? No andatelo a cercare sul libro lo trovate in vendita alla vostra sinistra questo a dire che la Virtus ha sempre avuto una sua continuità è evidente che negli anni si è presa molto più spazio la Virtus Basket però adesso con l'ultima slide arriviamo a una cosa che succede domani domani la Segafredo presenta Sergio Scariolo alla Segafredo Arena che è questo impianto che vediamo è sempre di più la casa della Virtus anche per le presentazioni qui è stato presentato Bellinelli qui è stata presentata Cecilia Zandalasini però domani il presidente Mattei è a questo incontro con Sergio Scariolo a ribadire quella che è un'usanza che voi che conoscete il libro potete apprezzare se non avete comprato il libro sappiate che comprate anche un gesto di straordinario valore emotivo negli anni Porelli la persona che abbiamo visto prima quando arrivava un nuovo giocatore o un nuovo allenatore gli dava le edizioni precedenti del mito della Vunera ed era non semplicemente una forma di benvenuto era anche una forma di ingaggio con quella persona dicendo devi sapere dove sei arrivato se vuoi vincere a Bologna devi sapere qual è la storia della Virtus se vuoi essere un vero virtusino devi conoscere la storia della Virtus sapere chi c'è stato prima di te per avere voglia di far venire qualcuno dopo di te quindi noi stasera speriamo di aver fatto venire a voi la voglia di restare vicini alla Virtus come lo siete stati stasera e vi ringraziamo prima di chiudere però vi chiedo una cortesia ed è una cortesia che non faccio a scapito di Cesare Mattei di Giuseppe Sermasi di Don Massimo Vacchetti però Galatio mi impone di ringraziare tutta l'organizzazione ma soprattutto con un applauso speciale nell'ordine il nonno di Asia Lanzi Asia Lanzi e anche Martina Caironi senza ovviamente tacere la mamma di Asia grazie a tutti per la compagnia io se possibile chiederei a Francesco di recuperare velocemente il nostro marchio una delle slide ad inizio della serata perché se avete se avete seguito la serata adesso capite ancora più e ancora meglio il senso di questa costruzione che abbiamo fatto avrà un futuro chi non ha paura del futuro era uno straordinario legame con una rassegna che è dedicata al tema della libertà però vedete che in semplicemente tre numeri ci sono tante storie e tanta storia di Bologna e dello sport l'oro che è il colore che auguriamo Martina e Asia le corsie di una pista che è quelle che frequenta Martina la storia che è contenuta nel presente e che si richiama al fatto che la Virtus Bologna noi tutti insieme i nostri nonni abbiamo fatto nascere anche le Olimpiadi grazie ancora grazie mille grazie a Corsolini grazie all'amico Cesare Mattei ricordo a tutti che il prossimo appuntamento sarà mercoledì quindi già dopo domani con una straordinaria presentazione del restauro della Basilica della Natività a Betlemme e sarà con noi la professoressa Carlotti Mariella Carlotti e Piacenti che è stato l'autore con la sua azienda e ci sarà uno straordinario collegamento proprio con il padre priore della Basilica della Natività poi ricordo sempre all'interno della nostra rassegna il 28 giugno lunedì non era in programmazione ma è stata aggiunta questa data niente di ciò che soffre andrà perduto la presentazione del libro di Costanza Miriano poi sempre mercoledì quell'altro il 30 il marketing del romagnolo di Paolo Cevoli quindi l'appuntamento è mercoledì sera prossimo il 23 con la Carlotti Piacenti e il padre superiore della Basilica della Natività grazie a tutti ricordo se non ti offendi ricordo che qui si vendono i libri io ho anche controllo che chi ne parla lo acquisti esatto con la disponibilità appunto anche degli altri libri della nostra rassegna lo stand della Petroniana Viaggi dove potete appunto acquistare i prossimi viaggi perché le vacanze sono vicine per tutti quanti è lo stand gastronomico per chi magari ha ancora un po' di sete un po' di fame è aperto per tutti voi grazie di cuore buonanotte buonanotte